Sette italiani su dieci soffrono dei difetti della vista, ma di questi sei non si sottopongono ad un esame da almeno tre anni. Ottobre è il mese della prevenzione visiva e per dare maggiore risalto all'iniziativa, domenica prossima 27 ottobre a Piazza Vittoria, Federottica tornerà per il sesto anno ad offrire controlli gratuiti ai cittadini. In tutta Italia fa questa manifestazione, noi in particolare a Napoli da sei anni facciamo questa edizione chiamata Occhio alla Vista in cui andiamo noi verso la popolazione, quindi non solo mettiamo a disposizione tutte le nostre ottiche per la cittadinanza che voglia fare un controllo gratuito, ma siamo noi che andiamo in piazza ed accogliamo i cittadini che vogliono farsi un controllo, facciamo anche un controllo verso i giovani dei requisiti minimi essenziali per la patente e ovviamente poi dai dati che andremo a rinunciare dopo vedere che ci sono dei belli risultati. L'iniziativa che poi abbiamo voluto affiancare insieme ai Lions è la raccolta degli occhiali dismessi. In tutti i cassetti ognuno ha qualche occhiale che fa un po' di confusione solamente, noi lo riprendiamo, lo rimettiamo perfettamente in ordine, lo ripuliamo, lo riassembliamo e lo destiniamo a chi ne ha bisogno. L'anno scorso furono più di 800 i controlli effettuati in un solo giorno. Quest'anno si è voluto stringere il dialogo fra istituzioni e categorie professionali, oltre alla collaborazione con il corso di laurea in ottica ed optometria dell'Università Federico II. Un risvolto che parla anche a quella città che non si può consentire un paio di occhiali o un cambio del proprio paio d'occhiali. In questo senso nella giornata di domenica ci sarà un'iniziativa che si rivolge sui due versanti e con la Federazione degli Otti ci abbiamo convenuto di rendere questo appuntamento un appuntamento che si ripete nel tempo, perché i cittadini sani sono un bene comune per se stessi e per la città di Napoli e la solidarietà è un valore in sé che non può mai essere dimenticato. Ma l'attenzione si rivolge anche ad altre iniziative collaterali, come quelle che sono state presentate stamattina a Palazzo San Giacomo e che impegnano la categoria nel sociale, come avviene con la raccolta degli occhiali dismessi e le misure di riutilizzo dell'occhiale a destinazione solidale, tutto sotto il nome di occhiale sociale. Una grossa campagna di misurazione gratuita della vista che è sempre un tema importante, ma con una bella campagna di sostegno ai paesi in via di sviluppo, alle popolazioni povere attraverso un meccanismo semplice della donazione dell'occhiale non utilizzato che gratuitamente il consorzio degli operatori ottici riconvertirà e metterà a disposizione delle popolazioni in particolar modo dell'Africa, dove sappiamo che questo è un problema molto serio e mai risolto. Non è escluso che in futuro vi possano essere nuove occasioni di prezzi scontati, di convenzioni di massa, insomma un nuovo rapporto tra il Comune di Napoli, una categoria produttiva rivolta a chi ha l'interesse dei cittadini e dei più disagiati che potranno tanto misurare la vista, domani fruire delle iniziative innovative.